Che sta succedendo? Quali sono i rischi che corre un'impresa come la sua? Noi abbiamo il rischio di poter, di dover mettere per strada tanti dipendenti. Le società dei servizi che a Trani si occupano della pulizia dei bidoni per alcuni condomini dopo il passaggio di Amiu rischiano di dover chiudere e licenziare personale. Il motivo è che spesso, raccontano, gli operatori di Amiu portano via l'immondizia troppo tardi, anche all'ora di pranzo, costringendo i dipendenti delle società di servizi a lavorare più ore rispetto a quanto patuito sui contratti. Dovremmo avere un dipendente che va dietro i cassonetti e i camion di Amiu perché loro molto spesso, a mezzogiorno, l'uno, le due, anche pomeriggio, le tre, le quattro, le quattordici, le quince, le sedici sono ancora i corsetti pieni. Naturalmente ci sono dei rifiuti a plastica, come vetro, che viene raccolto sempre tardi e noi non possiamo tenere dipendenti H24 per strada per fare poi quello che loro preferiscono o che vogliono, pretendono. Quindi loro dovrebbero accogliere nei orari consentiti, notturni soprattutto, per poterci garantire a noi la mattina presto di andare a pulire e a spostare il cassonetto. Oltre a lavare a secco i bidoni una volta svuotati e rimetterli negli appositi spazi interni, le società tornano in serata per sistemare i nuovi rifiuti all'interno del cassonetto e poi posizionarlo all'esterno dei condomini per il conferimento. Quando ami un ritardo alla raccolta, le società tendono a conferire il nuovo rifiuto molto prima dell'orario consentito dal regolamento per ottimizzare sulle ore di lavoro dei dipendenti, ma così incappano in sanzioni. Per rispettare le regole, spiegano, dovrebbero aumentare le ore di lavoro dei propri dipendenti, andando così a pesare ulteriormente sulle tasche dei condomini che già pagano le società. Già il costo è già elevato, bisogna tener conto dei pensionati, persone che non lavorano, è un pensionato che prende 500 euro mensili, come fa a pagare queste spese qua? Con lo stesso immondizio che si pagava prima. Non è che è stata una riduzione di immondizio e poi sostenere questi prezzi qua. Se adesso l'operatore giustamente ha ragione che vuole aumentare perché non ce la fa, come facciamo noi a raddoppiare il prezzo che già paghiamo, 6-7 euro mensili? Non è possibile. Più ore di lavoro e compensi più alti, ma se Amium rispettasse i tempi di raccolta, specificano le società di servizi, tutto ciò non accadrebbe. Anche la mediazione degli amministratori di condominio si complica. L'appello è rivolto all'amministrazione comunale. Di venire incontro a questi operatori qua per vedere come si può risolvere la situazione, oppure riducendo il costo dell'immondizio ai condomini e noi pagare a queste persone qua. Una prima risposta dal comune c'è. L'assessore all'ambiente, ingere pubblica e transizione ecologica Pierluigi Colangelo, ha convocato le parti lunedì 16 maggio alle 15.30 a Palazzo di Città per provare a trovare una soluzione condivisa, anche se la questione, ha sottolineato Colangelo, è estranea all'amministrazione, ma l'ente è comunque pronto a discuterne.